In apertura il nuovo bollettino sulla diffusione del covid in Abruzzo, oltre ai dati a preoccupare la pressione ospedaliera. È aumentato infatti il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive, ma per il dettaglio abbiamo in collegamento Fabio Lussoso che ci parlerà anche di un importante focolaio scoperto in una casa di riposo a San Valentino in Abruzzo Citeriore. Buonasera Fabio. Sì, buonasera Paolo, prendiamo qui la linea dal centro di Pescara, siamo a due passi da Piazza Salotto per il consueto bollettino sull'andamento del coronavirus in Abruzzo. Rispetto a ieri si registrano 493 nuovi casi di età compresa tra un mese e 99 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 92, di cui 1 in provincia dell'Aquila, 64 in provincia di Pescara, 21 in quella di Chieti e 6 infine in quella di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1582 di età compresa tra i 78 e i 98 anni. Aumenta purtroppo anche il numero dei ricoverati, soprattutto in terapia intensiva. E questo dato allarma i sanitari della nostra regione, anche perché le strutture sanitarie sono ormai al collasso. Ed apprezzone è anche registrata nel comune di San Valentino, in Abruzzo-Citeriore, dove un focolaio nella casa di riposo Villa Citerius ha destato grande preoccupazione tra gli abitanti. 27 dei 30 ospiti anziani sono infatti risultati positivi al coronavirus, così come i 7 operatori impegnati, impiegati nella struttura. Il vice sindaco Lino Sciambra ha ribadito che proprio questa mattina è stato attivato il centro operativo comunale, così come sono state emanate le disposizioni, le ordinanze per limitare l'accesso nelle scuole. Ovvero si proseguirà soltanto con la didattica a distanza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. C'è preoccupazione per questa variante inglese, soprattutto perché potrebbe aver creato grandi contagio, soprattutto un numero elevato di contagi nella comunità di San Valentino. Pensate, un comune di 1.900 abitanti, poco meno di 1.900 abitanti, sono risultati positivi ben 48 cittadini. Si è registrato purtroppo nel pomeriggio anche un decesso nella casa di riposo. Ma ascoltiamo le parole del vice sindaco e su questa intervista ringrazio Andrea Berardinelli per il collegamento in diretta qui da Pescara e ti restituisco la linea. Esplode dunque il caso Covid nel suo comune, nella casa di riposo un focolaio che preoccupa tutta la cittadinanza. Noi abbiamo avuto notizia di questi dati ieri pomeriggio quando sono usciti gli esiti dei tamponi. In effetti sì, subito ci siamo, come dire, come amministrazione, ci siamo mossi. Il sindaco ha avuto delle interlocuzioni con il direttore generale dell'ASL per chiedere immediati provvedimenti, ma soprattutto anche per valutare la possibilità di fare uno screening sulla popolazione. Ci hanno accordato mille tamponi per cui adesso organizzeremo questo screening proprio, credo, nell'immediatezza. Già questa settimana potrebbe partire, signor vice sindaco? Già questa settimana potrebbe partire e a questo punto si renderà necessario anche procedere alla giustizia delle scuole, o meglio, alla sospensione della didattica in presenza, proprio per consentire l'effettuazione di questo screening. Adesso valuteremo se riusciamo a farlo per tutta la popolazione oppure, quantomeno per la popolazione studentesca, gli insegnanti e il personaleato e le famiglie degli studenti. Avvocato, 25 dei 30 anziani ospiti positivi al Covid, così come i 7 operatori sanitari. Che lei sappia, erano stati vaccinati? Non ho notizia di questo, ma l'auspicio è che possa partire presto la campagna vaccinale. Noi veramente auspichiamo che la Regione possa in qualche modo darci notizia che su questi territori parta l'inizio della vaccinazione. Anche perché, al di là delle misure restrittive, in ogni caso la gente è da un anno che combatte con questa pandemia, quindi è necessario partire con quella vaccinazione per ordinare il virus. Adesso occorre veramente rispettare le norme in modo stringente. Bisogna muoversi solo per l'assoluta e stringente necessità. Non chiederemo anche le forze dell'ordine di fare dei controlli. Insomma, bisogna stringere un po' i denti. Ce la faremo, ce la faremo anche stavolta. C'è qualcosa, c'è un po' i denti. Grazie.